L'uomo è un paradosso, vuole sapere senza imparare, ha dieci dita ma ne d'opera uno solo, vuole ritrovare tutto quello che ha buttato via. Tutti d'accordo? Allora ripetiamo. L'uomo è un paradosso, vuole sapere senza imparare, ha dieci dita ma ne d'opera uno solo, vuole ritrovare tutto quello che ha buttato via. E soprattutto l'uomo vuole essere trattato come un uomo. Apple ha insegnato l'uomo a Macintosh. Apple ha insegnato l'uomo.